Nel mondo del lavoro e soprattutto nel contesto commerciale avrei sentito più volte nominare questi due acronymi B2B e B2C. Se conosci il gergo della vendita oppure sei nel business da un po' di tempo sai perfettamente il loro significato. Diversamente resta qui con me che te lo spiego. B2B significa business to business e si riferisce quindi a uno scambio commerciale di prodotti o servizi tra aziende. Questo tipo di contesto richiede uno stile comunicativo tendenzialmente formale e spesso prevede tempi di acquisto più lunghi rispetto al B2C. Questo perché i processi decisionali di un'azienda possono essere molto complessi e spesso riguardano più reparti. B2C significa invece business to consumer e si riferisce a tutte le vendite effettuate direttamente al consumatore finale. Il B2C può quindi essere più informale e utilizzare una comunicazione commerciale più aggressiva. Offerte, sconti promozionali a scadenza che possano favorire una risposta d'acquisto immediata dell'utente. Strategia che come abbiamo visto nel B2B è praticamente esclusa perché ci sono più parti coinvolte nel processo decisionale d'acquisto. Qual è invece la tua relazione di business preferenziale? B2B? B2C? O entrambi? Condividilo subito nei commenti qui sotto.